Oggi è stessa rete, tempo di tecnologia. L'INRIM, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, ha bandito un concorso per segnare 6 borse di studi ed estramento alla ricerca, destinate ai laureati e residenti sul territorio italiano. Le borse hanno durata annuale, rinnovabili in caso di necessitata parte dell'istituto, per un valore di 12.394,99 euro. Il termine per l'invio della propria candidatura è il 3 luglio 2014. Tutte le informazioni sulle borse di ricerca sono disponibili nel bando, in allegato e sul sito www.inrim.it. Oggi è stessa rete, tempo di Startup al decollo. Unicredit Start Lab è un programma di accelerazione che sostiene la fase di start-up di nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 30 giugno 2014, registrandosi sulla piattaforma online disponibile sul sito Unicredit Startup Lab e inviando la modulistica richiesta nel regolamento allegato. Oggi è stessa rete, tempo di Editoria digitale Il bando New Book promuove idee e progetto per lo sviluppo di prodotti editoriali digitali avanzati ai sistemi di produzione e distribuzione digitali innovativi da parte di giovani creativi. Incentiva la collaborazione tra le nuove professioni digitali e il mondo dell'editoria digitale, con l'obiettivo di incrementare la diffusione del libro digitale e della lettura presso un pubblico più vasto, con l'utilizzo dei nuovi media. Per tutte le informazioni su come partecipare al bando New Book visita la pagina dedicata sul sito www.regione.lazio.it Per ulteriori informazioni sulle proposte da noi elencatevi vi invitiamo a visitare il sito www.gioventù.org L'appuntamento con la rubrica Tempo Nostro torna la settimana prossima sempre qui su Sesta Rete.